Da pochissimo, si può dire da poche ore, è nato a Chioggia un nuovo consorzio formato da una categoria di pescatori molto importanti nella Laguna Veneta, come molto importante la formazione di questo specifico consorzio per una serie di motivazioni. L'acronimo sotto il quale hanno deciso di riunirsi una dozzina di imprese clodienzi è CVCV, Consorzio Veraci Chioggia Venezia, presidente Gloria Bullo e vicepresidente Matteo Grego. La scelta degli incarichi non è casuale, lei compagna di uno dei vongolari che più crede nelle potenzialità di questa realtà, Luca Bellemo, mentre Matteo, commerciante nell'ittico, ha appoggiato l'idea fin da subito, collaborando con Solerzia perché il tutto portasse a questo importante risultato. Un consorzio che da tempo molti vongolari speravano potesse prendere forma per dare una svolta a questa attività di pesca faticosa e meticolosa, il cui prodotto necessita di cure attenti e costanti. Ora più che mai serve fare squadra, collaborare per affrontare i vari problemi comuni, accogliere le opportunità che vengono offerte a chi decide di unire le proprie forze sotto una realtà comune. Il primo impegno concreto che i consorziati hanno deciso di prendere nei confronti del territorio è mettere in campo una serie di azioni di pulizia della laguna, cominciando dal tratto in cui si affaccia Saccatoro, pulizie che avranno una cadenza mensile svolte in collaborazione con altre associazioni già presenti e attive nel territorio. Il consorzio è nato ieri e sta già pensando al primo intervento, probabilmente per metà settembre, coinvolgendo i figli dei consorziati e tutti i cittadini che vorranno partecipare all'iniziativa. Si sta già contattando una tra le associazioni che opera con frequenza sul territorio, Progetto Laguna Pulita di Nino Gobetti, la quale si è detta disponibile a unire le proprie forze a quella del CV-CV. Le due realtà stanno cominciando in queste ore a prendere accordi. Entrambe invitano i concittadini a partecipare. Nei prossimi giorni saranno dati fondamentali raguagli su questa prossima iniziativa.